le olive già sono qua ora da qua inizia il vero ciclo di trasformazione ora che succede? le olive sono intere vanno in questa macchina questa macchina lì questo è un trancito ci sono dei martelli di ruota le olive che vengono da questa barca qua vanno dentro questa barca dovevano farlo un martello facciate un trancito facciate un trancito facciate un trancito le olive non esistono più sono scacciate il trancito il trancito è un trancito ha un trancito in questo modo vediamo in questo modo in questo modo in questo modo è come avveniva il Cibro tradizionale e che viene in questo modo per questo tra l'altro un bel 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 no per te eravano messi dentro quelle ruote che pesavano quattro stagioni giravano e giravano fino a schiacciarli invece era così in questa piccola macchina vengono trattomati in un attimo e hanno fatto la pasta che puoi essere lavorata allora se puoi andate da quella parte facciamo anche questa macchina che non farà un po' di rumore e non farà un po' di rumore e non farà un po' di rumore Chiara vieni qua Chiara vieni qua da qua non farà l'acqua non farà l'acqua da qua da qua qua senti meno un po' il rumore perché ci sono dei mattelli sbrollanti in acciaio papà le olive stanno cadendo che ci sono e lo so e l'acqua posto che presto un po' di e un paese il Grazie a tutti. Grazie a tutti.